Una vazione molto importante, un'attività che abbiamo messo in campo insieme al Consiglio regionale, una proposta che è partita da lì dai nostri consiglieri di maggioranza. Abbiamo organizzato questi corsi, è una cosa molto importante perché le aziende ferroviarie crescono se cresce il personale, se c'è la disponibilità di maestranze tecnicamente e tecnologicamente ben formate. Questa è una sfida che più avanti la ricerca e l'innovazione tecnologica sui mezzi e sulle infrastrutture più è necessario che macchinisti, operatori, manutentori siano preparati e formati. C'è spesso anche una forte concorrenza proprio perché non è facile ed è molto costoso formare questo personale tra le diverse aziende ferroviarie. Noi stiamo predisponendo in questi anni un forte potenziamento del servizio ferroviario di Tua e anche della controllata Sangritana Cargo. Abbiamo bisogno di macchinisti specializzati e ben formati. Questa iniziativa rafforza nel complesso le politiche di mobilità sostenibile della regione abbrunso.